Qui Martina Pizzolato, grande match della numero 13, cosa ne pensi di questa partita e cosa ne pensi di questo gruppo? Allora, della partita penso che sia stata una buona partita da parte di tutte, ci siamo aiutate tanto, proprio perché siamo un bel gruppo, con tanta esperienza secondo me e con ognuna tanto da dare alle altre. Io personalmente ho tantissimo da imparare da ognuna delle mie compagne e niente, devo tante cose. Hai parlato di gruppo unito, cosa può fare questa cittadella? Io penso che con le qualità che abbiamo, ma soprattutto se abbiamo la mentalità giusta, possiamo toglierci delle enormi soddisfazioni, sia come gruppo che anche a livello personale. Perfetto, ti ringrazio Martina, alla prossima. Ciao!